ciao a tutti un video speciale per annunciare un evento una data per me speciale importante che comunque vada segnerà un passo importante nella mia attività lavorativa comunque nella mia vita colgo l'occasione per ringraziare la mia famiglia che mi è stata dietro perché questo periodo è stato lungo fino ad arrivare ad oggi dove vi annuncio che sabato 18 marzo ci sarà l'inaugurazione del mio negozietto sarò rivenditore bluetti sarò rivenditore power meter sarò rivenditore sonoff di un sacco di cose che ci interessano darò comunque anche i miei servizi di installazione consulenza insomma tutto quello che riguarda il mio mondo siete invitati tutti quanti a venire all'inaugurazione che si terrà sabato 18 dalle ore 10 e mezza di mattina andiamo avanti fino a che c'è roba da mangiare mi trovate a san benigno canavese in provincia di torino in piemonte il negozio si trova in via papa giovanni ventitresimo numero 24 un negozio che inizialmente terrò aperto solo il pomeriggio dal lunedì al venerdì il mercoledì ci sarò su appuntamento e il sabato sarò aperto tutto il giorno se volete venire a trovarmi anche solo per fare due parole o per conoscermi di persona mi fa piacere però vi do un consiglio se magari non siete proprio di passaggio addirittura volete venire da lontano magari ci sentiamo prima mi avvisate non si sa mai un intervento urgente magari arrivo in ritardo se venite apposta meglio avvisarmi prima ecco anche se una sorpresa da ognuno di voi mi farebbe un sacco piacere fatemi un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura non finiamo di fare i video non vi preoccupate grazie a tutti ci vediamo al prossimo video o qua in negozio ciao da massidattoli ciao ciao